Allora, Maria Grazia, come ti sei trovata con questo trattamento di ortodonzia invisibile? Allora, mi sono trovata benissimo. È stata veramente una svolta della mia vita, perché i denti hanno sempre presentato un complesso per me e aver iniziato questo trattamento, soprattutto per la fine, è stato un successo, perché veramente mi sono sentita più sicura e non ho avuto più paura di parlare, di confrontare con le altre persone, perché magari ho la sensibilità dei denti non perfetti. E durante questo trattamento hai avuto delle difficoltà a livello esterno? No, per niente. Nessuno si è mai accorto di niente. Anzi, ero io a dirlo e molto spesso, anche quando dicevo, le persone si andavano a credere che stia qualcosa in buca, perché oltre al fattore stretto, che comunque non si nota, non si sente neanche quando parli, quindi è veramente impercettibile. Quante ore al giorno hai portato? Praticamente tutto il giorno, esclusi pasti, massimo, quindi colazione, pronto e cena, massimo un'oretta. Però comunque è una cosa assolutamente fattibile, cioè a tutti quanti comunque le abbiamo i denti dopo colazione, dopo pranzo, dopo cena, quindi era soltanto un ricordarsi dove mettere l'apparecchio, ma niente di pesante. Quindi sei disoddisfatta del nuovo sorriso? Consiglieresti questo trattamento con allenatori visibili? Assolutamente sì. Grazie. 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 Grazie.